Ciao ragazzi! Benvenuti in un nuovo episodio di Diveo20 1.5 Allora, oggi siamo un po' qua con la Towncraft The Final Sì, la Towncraft The Final, esattamente E oggi vedremo un po' di quello che ha combinato off-camera Quindi, come ben detto, le ricette le ha scoperte da solo Si è divertito tanto, devo dirlo E ora sta facendo le magie Cosa stai facendo tu? Sette Va bene Sette magiche? Magiche? S'ingrandiscono da sole? Sì, si ingrandano Sì, ingrandano da sole, va bene Ok Si ingrandano da sole? No Può essere Ma c'è cosa si fa una vingrandiscono? Testa di cazzo Vabbè Allora, hai graffitato? Testa di cazzo Dove sei, Kira? Ho una spada che ti vuole conoscere Ah, venimi a trovare, sono nel mondo della guerra Ah, ok No, di nuovo, non è possibile Ma muori, golem di merda Mori, mori, capito? Mori! Non è possibile che ogni volta che gli passo vicino mi attacchi Allora Allora Ha già creato qualcosa off camera Però farvelo vedere fuori Allora, queste sono le bacchette molto belle Una è per la scappa Per scavare Dio Cleziano C'è anche una bacchetta C'è anche una bacchetta C'è anche una bacchetta Rende per tromba Ok Per trovare Per trovare, giusto Questa scava Ed è stato, è ci ha dato a livello 30 E ci ha dato tre sor, che è tipo È fortuna Potency che è efficienza E frugal che non so cosa sia Frugal è il tipo Looting Ah, il fruttolo Fruttolo, fruttolo, fruttolo Lo sapevo che lo dicevo Poi la seconda bacchetta La Wand of Lighting Che spazio Credo che sia una bacchetta Solo per attacco Penso Sì Quindi le bacchette Più di momento Sono queste qua Sono craftabili Aspetta La Wand of Lighting, giusto? Quindi fate fare dei fulmini, giusto? Sì No, fate i fulmini e basta Posso provare a fare una cosa Con quella bacchetta? No, perché si esaurisce facilmente E mi serve per uccidere i cosi volanti Ma usa l'armatura Te lo puoi saltare, giusto? Perché se mi viene quello che ho in mente Non riusciamo a fare una facoltina di Death Star Quello può essere interessante Poi ha fatto questa crafting table gigante Che si fa Fai le boccette No le boccette piccole Quelle grandi Quella che c'è dentro già nella crafting gigante No Quelle Le jarre Eh Quelle jarre L'ho appena fatta E' quella dentro la La cassa Sì la La parco giuda Guarda Piazza Leida Parco giuda Ti ho detto Quella Eh Ce la fai Adesso aspetti Cos'è quella Ah è la grafica Ok Ok No Niente Quella che devo fare Deve diventare blu la pistola No Basta Guarda Guarda che io Questa Ti lancio le luci Eh Eh Ma fatelo fuori in pubblico Off camera magari Che è una cosa Eh Ci servono i Golov No Mi sono per il full logo Eh Ah Dato che Italo Golov Che ci segue Ciao Con Gionazzo Eh Eh Final Con chi sta parlando Ok Lasciate stare queste cose Final Fai un altro tallo golem Ti insegna a fare una cosa molto veloce e divertente Allo Un tallo golem Col cazzo Fallo Ti serve per queste cose qua Fallo Ma sai quanto ci vuole Cartellino giallo Cartellino giallo Cartellino giallo Fai fallo off camera Chi se ne frega Ti insegno un metodo per svuotare la mia boccetta Che cazzo mi ha fatto tutta la boccetta È qua Sei una testa di minchia Ma ti serve Porco cleziano E poi te devi mettere tutte attorno Non alla stanza Più vicino possibile Ma dai lo so Ma ancora E poi fai Poi fai il tallo golem Che ti porta il liquido verde dentro la boccetta E te lo separa tutto Così hai l'essenza per tutte le cose lo sai Lo so Ah ok Cattivo Allora questo è un tallo golem Posso per lo si Allora tallo golem cosa fa L'ho fatto io il golem In giro ho fatto il golem E lo fermo Basta Allora il tallo golem Quando ha un oggetto nell'inventario Tu gli dici Come hai fatto a impostarlo qua Ah ok Lo piazzi sulla Lol Come hai fatto a uccidere con l'armatura Con questo Buona Lo piazzi sulla cosa Gli metti il colorante blu vicino a una pozza d'acqua E lui ti riempie automaticamente il calderone Bellissimo questa cosa Acqua wind E questa cosa l'avevo fatto anche nella serie di Dive Se volete andarlo a vedere Gli episodi della Towncraft Sono ancora lì disponibili quindi Vedere il singolo è più spiegato se volete Dopo gli ultimi avvenimenti volevo dire che lascio la serie Va bene Ciao Giulio No voglio vedere le api Gli torno dentro Ah culo Eh rompigoglioni io ti faccio il culo Ok Ascolta Guarda se mi metto a fare seriamente le api altro che rompigolo tu Eh vabbè fatele le api allora Io mi faccio tutte le api Anche le regine Così faccio i miei figli E le faccio tutte le api E le faccio tutte le fan Eh sarebbero un mignottone Cioè non hai capito il senso doppio della frase che hai detto Io non ho capito Vabbè Off camera abbiamo rifatto il campo di cotone Molto bello e carino Mi piace molto carino e carino Molto carino e coccoloso Pinocchio Carino e coccoloso Carino e coccoloso L'ho fatto io Allora Dovete fare due golem per il campo Dovete fare il straw golem Che non me lo fa aprire Perché non si può aprire Si fa col grano Col grano E poi il Wood golem Perché quello col grano non si può aprire Pirla Lo so E il wood golem Il wood golem cosa fa Potevi metterlo anche senza potenziamento Vi raccoglierà Il grano Il grano Le patate eccetera Quello che coltiverete No Si No Aspetta Aspetta Siete voi due che mi fate caldina Aspetta Allora Sempre per la colpa Lo straw Per me no Adesso mi banno e parlo solo io Allora lo straw golem Guarda È quello che raccoglie gli oggetti E li ripianta Vuoi far andare da solo? Bene Tinocchio Va bene Allora Lo straw golem È quello che Raccoglie gli oggetti Attenzione Non li pianta direttamente Quindi Vabbè Col cotone Non si arriva all'intelligenza Perché Cioè Cosa sto dicendo Non serve ripiantarli Perché li prende Soltanto Il cotone No Ora parlo da solo Bastardo Ehm Poi Mettendo il cotone Eccetera Se volete il grano Per ripiantarlo Visto che bisogna spaccarlo Per prendere i semi E grano Lì dovete mettere il potenziamento Dell'intelligenza Se non vi dispiace Vi faccio una cosa molto veloce Così ve lo faccio vedere Se volete un piccolo trucchetto Per avere tutti i recipe Della Totte 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 le ricette Della Ehm Towncraft Oh Ti vi farò vedere Sardegognati Eh? Perché sei andato via? Mi hai chiccato tu C'è un wispp qua C'è un giusto Allora questo qua vi farò vedere tutte le ricette Per fare i golem Andate un po' più in basso Dovreste avere sbloccato tutti questi qua Ah c'è anche quello da Decai Vabbè Tutti i finocchi Tu devi andare Dovete andare qui Progi Questo golem animation Bastardi Dovete fare il golem animation Intelligence Canaglia Ma stai zitto Che si vuole la fire shard Mettendoli insieme Nell'infusaltar Dovete capire un po' di tutorial Magari Pene Vi faremo un tutorial Off camera Cane O potete andare a vedere I miei video di Darwulf Magina Ma basta Ti chicco Chiccalo da Seda Ehm Vi farò l'intelligenza In modo che lui Raccolga il grano E lo ripianta Invece Quello di Leilio E lo ripianta Non serviva l'intelligenza final Ma vabbè lo stesso E lo piazzate su una cesta E finita di prendere per il culo DJ Sì Vabbè Ehm Lo piazzate su una cesta E lui raccoglie quello che lo straw golem Butta per terra Perché lo raccoglie Però lo butta per terra Non lo butta dentro una cesta Lo straw golem Perché è straw È straw Proprio straw Scusate se ho preso da un amico Con tutte le cheat Però adesso lo butto via Di termo amico Per farvelo vedere E peace Contenti Forse adesso prendendo quello Ho sbloccato tutto ma La vedi questa? La vedi questa che c'è il mano? Aspetta Sono occupato con le mani adesso Sì ho sbagliato il tuo tema Ma meglio così Almeno così Vi faccio vedere Visto che la towncraft Non devo farla io Fa final E lui ce li scopre a tutti Faccio a due Ehm Basta Faccia da merda Questa è la towncraft Fino ad ora Fino ad ora Poi final Ah questo qua si fa Quelle blades Final se vuoi farti blades Vai dallo spawner Che ti ho fatto vedere Te le fai Perché io non te le faccio Ehm Dico se Ah devo dire una cosa Però dopo off camera A me no On camera o off camera Off Final mi ridai la mano Per fuori Eh scusa mi ridai la mano La mano? Eh la mano? Per fare cosa Ah Dici vai a vedere Quello che ho combinato Nella casa L'ho messo per terra Se lo prendi In culo Tieni il vispo qua Dietro di te Vieni a vedere Cosa ho combinato Buono Ora passiamo da towncraft A api Oh stare dietro A sti due è impossibile Apriti un canale Kira Registra E vai Allora Cosa hai fatto? Hai fatto qualcosa qua? No niente Nada Uga 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 Guarda che non prende un cazzo qua No hai messo l'import qua Devi fare l'import Vai ad affogare E' un po' non l'export Ah giusto Ce l'avevo però Final L'ha droppato Dai che andiamo più avanti Final Ritardo Export Import 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 L'export Ah Vabbè lascia stare Fine Così Cos'è Dio l'amore questo momento due secondi e ho finito anche questo sempre scocchia tc perchè perchè io ho preso il cilindro lo so fargli vedere a loro come facciamo la mia l'autorità per me ora faccio io ho senso la mia amica la sua parola ma state dormendo no sto facendo prima l'import tu l'hai detto tu l'hai detto vergogna io lascio la ferie vergogna così mi toccherà registrare da soli guarda che io posso e allora perchè non registri? no scherzo non abbiamo clay cercare il fondo al mare si fa con uno di ferro si fa con uno di ferro no perchè c'è la fuoricarmia con la minion stone con la mignotta stone con la mignotta stone ma laga troppo adesso non laga più è normale che laga final dai un computer di merda finchè sei povero e indifeso rai ne faccio la merda che cattivo che c'è non usare mai più offendere il mio final il tuo final quest'idea ti ha messo un D20 però ah giudami ok possiamo dormire? si io sto dormendo l'ultimo sei sempre l'ultimo ti ha visto scappare un secondo un secondo beh allora non dormo più dai dormi no no io sto tornando a casa raga sto tornando a casa ero scritto in grande stanno tornando i'm coming back i'm coming home workbench ah clay e 3d vetro un'idea delle altre ma disegna apri un po' la porta di casa because un altro no stessi 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 sì perché non dormi mai ma vaffanculo via da mio letto cosa è mio via da mio letto ah scusa ho perso l'elentamento no 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 ti sei lanciato tu guardate che vengo là con le scorse dai che andiamo a dormire è già giorno ormai cazzo vabbè lasciamo stare non dormiamo ragazzi non dormiamo ragazzi stasera non si dorme stasera baldodia eh eh fesso tutto il giorno eh dai andiamo a mettere il piatto eh dai il coglionazzo no andiamo ancora il coglionazzo abbiamo perso abbiamo perso abbiamo perso oh ben saluta anche più il coglionazzo ciao coglione no 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 mica bene così non ci dice così basta no dice coglionazzo 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 non stiamo parlando di nessuno di voi tranquilli ehm meglio se c'è tra voi qualcuno che si chiama coglionazzo scusate ehm 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 dove sei mi portato l'hai fatto? l'hai fatto? l'hai fatto? eh l'hai fatto? ma cos'è sta cappella gigante in mezzo alla stanza? che cazzo ne so che cazzo ne so che cazzo ne so perchè? perchè? queste cose assurde chi è che hai sbordato? aspetta che vado a fare un item test ce l'ho io ce l'ho io ce l'ho io item test che puzza di merda anche il request? ah? anche il request? no aspetta che te lo faccio allora cos'è che fai? aspetta che accendo un attimo la luce guarda un po' che vergognoso vergogna vergogna putti di merda per gente come te che l'italia adesso è in crisi chi fai là? ma cosa stai via dicendo? non so vergognoso basta che non fai questa cosa no 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 prepara la bacchetta dei furmini no prepara la tua vita ma perchè moglio così in fretta? ahhh cristo mi è andato un moscerino nell'occhio ah io ho un moscerino nell'occhio ho un moscerino nell'occhio bravio bravio che perchè moglio così in fretta? non lo so adesso mi rida un po' tutto però dai questo 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 mi sono masturbato ieri ok anche io due volte però ah addirittura non so sai perchè però non hai bisogno di minecraft ehm 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 che ha e con la tua ragazza si li tenta essere eccolo ma masturbation cos'è sto cosa? pi gatto perchè il faina sta facendo queste cazzate? che cazzo è il suo coso? non è mio ah è mio vabbè è mio pe perché perché vergognoso forse perché io sono mio davvero il non vuole la chiesa se si tratta il mio p il mio se tu un cretino e non vedi che cosa vuol dire mio per tu l'hai detto senza sapere nemmeno che colori i capelli di tua mamma ok io non ci sto capendo più niente è meglio che ti chiedi tu l'hai il tessera che qua l'hai lasciato giù ma come cretino cretino vergogno poi il bagno basta dov'è te lo dico adesso vergognoso no devi farne due vergognoso io ho uno ce l'ho dai faccio io il secondo ma dai ma perchè vergognoso dj questa puntata non si capisce niente mettete un dislike a questa puntata no 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 mettete un dislike a final vergognoso colpa tua a final no un bel mi piace ci vuole sempre eeeh sei vergognoso mi piace kikalo io non mi chiamo kikalo ma non mi chiede che il coso voto ti si ma devi parlare anche tu e quindi ahahah 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 fallo fallo ora 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 tutto dentro perchè perchè è è una cosa assurda è una cosa assurda dai tentare se la sbrigati no eccolo eccolo è entrato 2 per lo smistamento 2 per lo smistamento e io uno ce l'ho eeeh io sto facendo il secondo è entrato è entrato j esti vergognoso ti faccio l'impianti ho dimenticato il basic fanculo panzone forse 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 ah no j esti azz to estinto puttana va bene buo mamma primordiale allora questo qui poi questo qui per la toby giuseppe simone che ci segue ciao giuseppe ciao simone no è una sola persona ah ok ciao giuseppe simone ok siete proprio due pezzi di stronzo non dirlo ok allora oh no si però la tagli però no niente va tagliato nella vita la nel salame il pane scusate ok se ti sentito la cazzo metto qua ti si sono roti due avete visto per un momento il cazzo dove cazzo lo metto dove cazzo lo metto dove cazzo lo metto dove cazzo lo metto ora è collegato lo smistamento anche nella tua zona qua per chi vuole la mamma dj costa 24 euro allora andiamo a saluta che pensi dice il albicino albicino il albicino abbiamo sbagliato a mese dentro guarda che cos'è tutto tutto l'impianto delle api è collegato alla cesta la cesta abbiamo messo un import che importa tutto nel nostro sistema di smistamento dal sistema di smistamento per ora faccio partire solamente le one con un bacio di silky propolis perché sono le uniche che trovate nella centrifica che rimanda tutto qui abbiamo tutto così basta finito e qua ho fatto l'aggiunzione di questa per avere lo smistamento che abbiamo da basso dappertutto ma dai che ti serve sta cosa così ti puoi richiedere gli stick un bing che stelle fornate serve anche un ender cesta per dire sì ma non buttare fuori roba a caso sicura ti serve ora ti sei invito il coso per il caso tipo se ti servono i stecchi e la string per fare i comb per fare i frame se posso un attimo la tua intercess grazie allora per questo episodio è tutto se vi servono spiegazioni più approfondite di ciò che abbiamo fatto contattato in privato la mamma di a dj dice chi vuole la ripi del server vi tipo solamente che se mi date 50 euro lo saremo dico 50 che dico 50 10 mila euro ve lo potremmo anche da quello di peter server così potete giocare con dj e da chi era dj e fanal è tutto come sempre nessuno che risponde linea all studio e per linea all studio per ogni volta ciao ciao